a certaldo domani è ora infedeli alla linea forcoli capitale del tartufo tutti in sella con la casentino bike a certaldo la prima edizione di domani è ora il festival della sostenibilità e delle abilità sarà la splendida cornice di certaldo ad ospitare domani è ora festival della sostenibilità e delle abilità il 6 7 ad 8 ottobre nei tre giorni della manifestazione alla sua prima edizione verranno affrontati non solo i temi legati al cambiamento climatico ma anche quelli legati alla tutela dell'ambiente alla conservazione degli ecosistemi la riduzione delle disuguaglianze a tutte le tematiche fondamentali e nucleate nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle nazioni unite in programma conferenze di incontri con esperti una mostra fotografica pensata per riflettere sull'impatto dell'uomo sull'ambiente concerti e spettacoli letture e incontri sarà inoltre possibile scoprire le bellezze naturali di certaldo e dei suoi dintorni attraverso trekking guidati e più giovani saranno coinvolti in laboratori creativi progettati per educarli sulle sfide ambientali domani e ora non è solo un luogo di confronto un luogo di discussione ma è un'esperienza culturale nelle prossime il prossimo weekend il 6 il 7 l'8 di ottobre certaldo diventerà la capitale toscana della sostenibilità ci confronteremo sui temi del presente perché se vogliamo lasciare ai nostri figli alle nostre figlie un futuro migliore dobbiamo scriverlo oggi esattamente in questa direzione va il nostro progetto toscana 2050 perché o la politica ha l'ambizione di porsi le domande del futuro e dare le risposte oggi non avendo la sfera di cristallo e sapendo cosa succederà ma capendo qual è la strada da perseguire oppure non svolge il compito il ruolo per cui è stata chiamata e ancora di più questo l'assemblea legislativa un appuntamento 9 di ampio respiro ha commentato il consigliere ricoso stenni che sono sicuro avrà successo un festival che coinvolge le scuole coinvolge tutta la comunità su due temi fondamentali quelle del futuro declinato in tema di sostenibilità e in tema di costruzione di comunità inclusive che accolgono sanno costruire insieme il proprio futuro ecco penso che questa iniziativa presentiamo spesso iniziative culturali abbastanza legate a questioni contingenti e circoscritte riesca a affrontare in maniera complessiva una grandissima tema che è quello di come affrontare il futuro ed è il fatto che il futuro si costruisce oggi quindi una prima edizione ma che sarà sicuramente un'edizione che permetterà a questa occasione di ripetersi anche nei prossimi anni. Il festival ha spiegato il sindaco di certaldo Giacomo Cuscina un'iniziativa su cui abbiamo scommesso molto è nato con la forte volontà di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni attraverso incontri e attività riflettendo su due temi centrali l'ambiente da un lato e l'inclusione dall'altro. Speriamo sia la prima di tante altre edizioni io sono molto orgoglioso di presentare questo nuovo contenitore culturale è un nuovo contenitore culturale che parla del domani pensando che debba essere ora nel senso che parla di sostenibilità e di abilità quando per sostenibilità è intesa come sostenibilità ambientale ma come sostenibilità sociale perché bisogna tentare di mettere prima il nostro ambiente, il nostro contesto dove si vive e prima le persone, prima delle loro disabilità e delle loro condizioni e quindi in questo contesto cerchiamo di sensibilizzare abbiamo creato un contenitore che include tutta la comunità, tante associazioni del territorio, le nostre scuole, le generazioni più giovani con tanti laboratori, tanti incontri, tante attività, tanti spettacoli in maniera tale che si possa cominciare a lavorare come comunità ma aperti a tutti quelli che vorranno venire da fuori su queste grandi tematiche appunto del domani ma che dovrebbero rappresentare sempre di più l'oggi e sempre di più l'ora. Quindi sostenibilità e abilità intesi come appunto parametri sociali da raggiungere con tanta sensibilizzazione e tanta didattica ma uno sguardo appunto al futuro. Con Libropolis tre giorni di incontri a Pietrasanta per il festival di editoria e giornalismo. Si apre venerdì 6 ottobre la nuova edizione di Libropolis col titolo Infedeli alla linea che da sette anni a Pietrasanta si propone come centrale delle intelligenze e dello scontro delle idee. Organizzato da Libropolis APS in collaborazione con il gruppo editoriale Magog e Gog Edizioni, con il patrocinio della regione toscana e del comune di Pietrasanta e con il contributo economico del Consiglio regionale, oltre a quelli di sponsor e media partner, edizione dopo edizione Libropolis continua a indicare le coordinate culturali in cui muoversi nel disordinato ordine politico, letterario, sociale ed economico attraverso dibattiti e presentazioni di libri con ospiti ed editori di eccezione. Il contributo del Consiglio regionale è stato finanziato con le risorse messe in campo per la promozione della lettura grazie alle misure previste dalla legge regionale 4 del 2023. Il festival di editoria e giornalismo, che si svolgerà nel magnifico complesso di Sant'Agostino da venerdì 6 fino a domenica 8 ottobre, permetterà al pubblico di conoscere i libri e i loro autori. Sono davvero felice di poter ospitare qui in Consiglio regionale un'iniziativa che abbiamo deciso di sostenere tutti insieme nell'ufficio di Presidenza all'interno di questo percorso che abbiamo voluto dedicare alla valorizzazione della lettura, alla valorizzazione del libro. Investire in cultura, investire in lettura vuol dire investire in libertà. In un tempo complesso come questo abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, mandando un messaggio soprattutto alle generazioni più giovani. Leggere fa bene, leggere tanto vuol dire avere posizioni, riuscire ad avere posizioni critiche anche più differenti. Noi abbiamo questo compito come istituzioni, quello di ricostruire una cultura civica, una attenzione all'altro, perché il mondo va visto sempre attraverso lenti differenti. Consiglio regionale quest'anno contribuirà alla settima edizione Libropolis con proprio finanziamento. Abbiamo fatto questa scelta perché sicuramente nell'era del digitale, nell'era di internet è giusto confrontarsi con i nuovi modi di comunicazione, ma noi pensiamo comunque che il fascino del libro, il fascino dell'editore, il fascino di prendere in mano questa cosa di carte e leggerla comunque continui a prevalere e anche se può sembrare una visione romantica debba avere spazio. Ed è giusto che le istituzioni come il Consiglio regionale dedichino una parte delle proprie risorse a questi tipi di festival, a questi tipi di momenti che esaltano e mettono al centro ancora il libro. Tra prime volte grandi ritorni la settima edizione di Libropolis sospiterà tra gli altri Luca Iosi, Marcello Veneziani, Luca Ricolfi, Ginevra Leganza, Luigi Bisignani e tanti altri. Siamo molto contenti perché anche quest'anno siamo riusciti a confermare i format che rappresentano un po' la cifra stilistica del festival e quindi avremo due processi, un processo alla femmina dopo che nel 2022 abbiamo processato il maschio che tra l'altro è uscito miseramente soccombente dal processo, ci sarà un processo a chat GPT dove un filosofo Paolo Ercolani dell'Università di Urbino intervisterà l'intelligenza artificiale, quindi avremo questo confronto tra un filosofo e la macchina. Vi sono poi un format che noi abbiamo ritirato fuori prendendo spunto dalle memorabili serate del Maurizio Costanzo, cioè l'uno contro tutti, un evento totalmente disintermediato dove non c'è un moderatore a porre le domande ma il pubblico che intervista direttamente l'ospite. Ci sarà anche quest'anno la seconda edizione del premio che è diretta emanazione di Libropolis, quindi è un po' un momento di provocazione rispetto alla diffusione di premi letterari che non ci convincono pienamente. E poi siamo molto soddisfatti anche per essere riusciti anche in questa settima edizione a portare a Pietrasanta un numero ampio di ospiti, circa 40 ospiti. Fine settimana all'insegna del tartufo a Forcoli con la mostra mercato. La mostra mercato del tartufo di Forcoli, giunta alla 37esima edizione, si svolgerà negli spazi del centro Nova Primavera di Forcoli, nel comune di Palaia in provincia di Pisa, il 6, 7 ed 8 ottobre. L'evento si inserisce nella stagione delle feste del tartufo bianco delle colline samminiatesi che vanno da fine settembre a fine novembre. La mostra mercato è l'occasione per un pranzo, una cena a base di tartufo e di fungo porcino per degustare e acquistare insieme al profumatissimo tartufo bianco gli altri prodotti di eccellenza del territorio, dai vini ai formaggi fino all'olio extravergine di oliva. Un territorio quello del comune di Palaia che è inserito nel cuore, nel centro di una delle zone geografiche più vocate alla produzione del tartufo e soprattutto del tartufo bianco, la specie più pregiata. Un territorio di particolare bellezza, ambientalmente incontaminato, paesagisticamente molto suggestivo dove fra l'altro si sono insediate attività turistiche e turistico-ricettive per cui manifestazioni come queste fanno bene sicuramente al territorio che le ospita ma sono un volano prezioso anche per la promozione e la valorizzazione di tutti gli altri prodotti della nostra enogastronomia e soprattutto sono uno strumento altrettanto formidabile per promuovere un territorio bello, suggestivo, anche sotto il profilo turistico verso anche i mercati internazionali che già apprezzano queste realtà durante l'estate che è un territorio quello di Palaia frequentatissimo anche da molti stranieri. Si inizia il venerdì con la cena di gala, menù fisso e su prenotazione obbligatoria. Durante la serata verrà consegnato il tartufo d'oro, premio che l'amministrazione comunale di Palaia dedica allo sportivo toscano che più si è distinto negli ultimi mesi. Quest'anno il premio andrà Federica Squarcini, palavolista della Nazionale Italiana, nata e cresciuta in Valdera, protagonista di un anno ricco di successi in campionato e con la Nazionale stessa. Sabato pomeriggio si apre la mostra a mercato con gli espositori di tartufo, funghi e prodotti locali. Il pomeriggio sarà arricchito da esibizioni di pattinaggio e di calcio con le società che gravitano intorno al centro Nova Primavera. Immancabile per tutti gli appassionati, la cena presso il ristorante al coperto con menu alla carta. La mostra a mercato riapre la domenica mattina e fino a tarda sera sarà arricchita dalla presenza di un mercatino artigianale, mostre fotografiche, esibizioni di danza e musicali fino alla grande tombola del tardo pomeriggio. Un evento che apre la stagione degli eventi invernali dopo un'estate continua di eventi culturali, che sarà su tutto il territorio. Sabato e domenica sarà nel centro della Nuova Primavera a Forcoli. Dopo si sposterà nei ristoranti della zona con cene a tema, sempre sull'argomento tartufo, dove ci saranno cuochi e libri sull'argomento. Per noi è importante perché è cultura proprio nel nostro territorio, da sempre terra tartufigena, quindi zona legata anche alle colline sammignatesi con i quali abbiamo anche dei rapporti di collaborazione e abbiamo tantissimi tartufai per cui siamo ben vicini a questa iniziativa. Domenica 8 ottobre, trentesima edizione della Casentino Bike, la manifestazione dedicata alla mountain bike. Appuntamento da non perdere per gli appassionati di mountain bike è quello con la Casentino Bike, arrivata alla trentesima edizione in programma per domenica 8 ottobre, un anniversario condiviso con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Per l'occasione la gara entrerà nel cuore del parco, su tracciati aperti in esclusiva per questa manifestazione, come il Sentiero dei Tedeschi e il Passaggio del Lupo. Tra i percorsi, il Marathon da 64 km, la Gran Fondo da 54, ma c'è anche una non competitiva da 25 km, mentre nella giornata di sabato 7 è prevista un'escursione in e-bike. Innanzitutto sono contento di accogliere ancora una volta l'amministrazione comunale di Bibiana nella figura del sindaco Vagnoli e dell'assessore Nassini e l'organizzazione di questa splendida iniziativa che pensate è arrivata alla trentesima edizione. Quindi una sicura garanzia di storicità dell'iniziativa che peraltro dimostra di rinnovarsi tutti gli anni. Quest'anno ci sono dei percorsi nuovi che addirittura permetteranno di entrare nel cuore del parco delle foreste casentinesi. Quindi rendiamoci conto quanto è splendido poter passare in mountain bike per questa iniziativa, tant'è vero che ci sono circa 500 partecipanti e sono numeri notevoli, fa parte della Coppa Toscana e in più possiamo dire che tutti arriveranno nel centro storico di Bibiana che, lasciatemi dire, è uno dei più belli della nostra provincia di Arete e di tutta la Toscana. Le novità sono piuttosto importanti. Per questa trentesima edizione abbiamo cambiato totalmente i percorsi, abbiamo fatto percorsi completamente rinnovati, inserendo anche un percorso marathon dove va a toccare quei sentieri, quelli di quei tracciati, dove il parco nazionale è da oltre 30 anni che non è permesso poterci accedere per eventi di questo tipo. In deroga a questa cosa che abbiamo fatto quest'anno ci è stato consentito il passaggio, per cui ne siamo molto orgogliosi e molto fieri di questa novità. La gara organizzata dalla MTB Casentino è una competizione storica che ha oltre 500 iscritti ogni anno e che unisce sport, turismo e cultura. Per questo la Casentino Bike è partenza e arrivo nel centro storico di Bibiana. La Casentino Bike è uno degli eventi sportivi di maggior successo e di punta di tutto il territorio casentinese, la nostra magnifica vallata nord della provincia di Arezzo. È un territorio magnifico dal punto di vista naturalistico e soprattutto un territorio dove la bicicletta, lo sport della bici sta andando molto bene, molto forte, anche perché il nostro è l'unico territorio in Toscana che ha visto completare tutta la ciclopista dell'Arno. Quindi nel nostro territorio la famosa ciclopista che parte proprio dal Casentino, ovvero dalla sorgente dell'Arno e deve arrivare a Marina di Pisa, nel nostro territorio è completa. E quindi anche questo sta portando ad uno sviluppo importante di questa disciplina. La Casentino Bike con MTB Casentino è ormai una competizione storica nel nostro territorio. Per noi è un onore, un impegno da portare avanti insieme all'associazione e a tutti i volontari che ringraziamo e chiaramente aspettiamo tutti gli iscritti che provengono da tutta Italia nel nostro territorio. È il terzo anno che la Casentino Bike ha la propria partenza, il proprio arrivo dentro il centro storico di Bibbiena. Questo ci ha permesso di dare un'offerta anche ai partecipanti che vadano oltre, ovviamente un percorso meraviglioso all'interno dei nostri percorsi naturalistici del parco e non solo, ma anche poter promuovere i nostri musei, quello archeologico e quello della fotografia d'autore e il nostro punto informativo che per l'occasione organizzerà anche degli eventi collaterali per tutti gli accompagnatori dei partecipanti.